Le parole sono munizioni contro l'ignoranza, contro l'indifferenza, contro l'odio. Ascoltare le voci di chi lotta per farsi sentire apre spazi di condivisione e di libertà. Perché una storia è tale solo quando c'è qualcuno disposto ad ascoltarla. La terza uscita della collana Munizioni è un romanzo di Arianna Farinelli, docente della City University di New York. Attraverso i protagonisti, Bruno e Junius, comprenderemo le contraddizioni della democrazia americana. Scopriremo che la nostra libertà non è nemmeno pensabile se coloro che ci sono intorno non sono a loro volta liberi. La libertà degli altri è nelle nostre mani. Sapevo che a te prima o poi sarai tornato e nell'abbraccio delle mie parole tu sarai per sempre al sicuro e io non morirò mai.